Brevettata il 16 febbraio del 1937, la prima fibra sintetica ha avuto vari nomi, prima di essere messa in commercio e conosciuta al grande pubblico. Gli scienziati della Dupont si riferivano a quello che sarebbe diventato il nylon con Rayon 66, fibra 66, oppure con Duparon, un acronimo di Dupont Pulse Rabbit Out of Nitrogen. Secondo il manager della Nylon Division della Dupont, il nome della nuova fibra era originalmente Neuron, che faceva assonanza con New, nuovo, e che letto al contrario diventava No Run. A Neuron, bocciato perché simile ad altri marchi, segue il nome definitivo, Nylon, prima con la lettera I e poi con la lettera Y. L'azienda a quel punto decide di non registrare il marchio, per dare l'impressione al consumatore che questa fibra sintetica fosse sempre esistita, come il legno o il vetro. Dalle poche informazioni intorno alla nascita del nome, sono nate supposizioni fantasiose. C'è chi racconta che Nylon sia l'acronimo di Now You Lose Old Nippon, per riferirsi al rimpiazzo della seta giapponese con il nylon, o ancora chi, senza troppo convincere, fa risalire il nome alle iniziali di New York e Londra.